E' giorno di festa grande a Modica. Domani le celebrazioni in onore del patrono San Giorgio Martire coinvolgeranno l'intera città. Alle 8 e alle 12 i colpi di cannone annunceranno la gioiosità della giornata. Alle 9.45 poi l'esibizione della fanfrade bersaglieri dell'Etna rappresenterà un altro momento topico destinato a catturare l'attenzione di fedeli e devoti. In particolare ci sarà, nella fase iniziale, la sfilata e i caroselli bersagliereschi nella zona di San Giorgio a Modica Alta. Alle 12.30 sfilata fino a Modica Bassa con la deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti. Nel pomeriggio alle 16.30 è in programma la trionfale uscita del simulacro e delle reliquie del Santo Patrono, accolto dai volantini e dai fuochi pirotecnici. Sarà uno dei momenti più emozionanti in programma. Il simulacro di San Giorgio sarà portato in giro per tutta la parte alta della città di Modica e anche nella parte bassa, in centro storico. Alle 22.30 al passaggio della processione presso l'ex foro Boario ci sarà uno spettacolo pirotecnico a cui seguirà, presso via Fontana, la calata dell'Angelo. Si tratta di un omaggio al Santo accompagnato dai fuochi. Alle 23.30 all'arrivo del simulacro di fronte al Duomo, tradizionale spettacolo pirotecnico e rientro in chiesa con i tradizionali Gira, tra le navate del Duomo. Domani sarà il momento quindi più atteso, non solo per i devoti e fedeli, ma anche per i numerosi turisti e visitatori che non vorranno mancare di vivere le emozioni e le suggestioni che solo feste come queste sono in grado di regalare. Grazie Grazie Grazie